Come è il Consorzio Università Rovigo? Il Consorzio Università Rovigo opera in collaborazione con due prestigiose università italiane, l'Università di Padova e l'Università di Ferrara. Questo significa che a Rovigo troverai un autentico campus in cui la vita universitaria ti consentirà di conoscere nuove persone, nuovi stimoli e ti accompagnerà allo sviluppo dei tuoi talenti per l'individuazione di una carriera carica di soddisfazioni. Vieni a trovarci a Rovigo, vieni a studiare a Rovigo, è un ambiente sano in cui troverai tutto quello che ti serve, i servizi sono assolutamente all'altezza delle tue aspettative, iscriversi a Rovigo è una buona scelta di vita. Ti aspetto al CUR per il tuo straordinario percorso di studio.